Buongiorno, io sono Cristina Perego, lavoro presso l'Ufficio Marketing e Comunicazione nel Gruppo Albini. Il Gruppo Albini è un'azienda, leader europea nella produzione di tessuti per camiceria, che è stata fondata nel 1876 qui ad Albino, in Val Seriana, in provincia di Bergamo. Una delle caratteristiche più importanti del Gruppo Albini è che è un'azienda completamente integrata verticalmente, vuol dire che ha il controllo completo di tutta la filiera, vale a dire a partire dalla selezione del seme di cotone che viene piantato nel campo e viene coltivato, fino ad arrivare al finistaggio e al controllo. Di conseguenza questa integrazione verticale ci permette di controllare tutta la filiera, garantire una qualità eccellente e una tracciabilità completa del tessuto. Il Gruppo Albini crede fortemente nella ricerca nell'innovazione ed è per questo che utilizza solamente i cotoni migliori al mondo. Questa vuol dire che il Gruppo Albini possiede una propria filatura, che fa una grandissima ricerca e sviluppo a livello di nuovi filati, nuove mischie. Dopodiché la tintura del filo avviene qui ad Albino, nella nostra tintoria che è stata recentemente rinnovata. Dopodiché l'orditura, l'imbozzimatura, tutta la fase di preparazione alla tessitura. Una cosa in cui Albini crea un valore, in cui Albini crede fortemente, è la qualità. Infatti i nostri tessuti vengono controllati al 100% circa 5 volte. C'è veramente un controllo continuo lungo tutto il processo. Il Gruppo Albini è presente in circa 80 paesi del mondo, con un export che è intorno al 70% del proprio fatturato. Per il Gruppo Albini è un piacere lavorare con Hust, Honest & Simple Trends.